Stamattina 22 ottobre la sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania concernente la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nonché la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio e del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di esercitare la professione di ingegnere nei confronti di tre soggetti responsabili della violazione degli articoli 353,2 del codice penale turbata libertà degli incanti e 479 sempre del codice penale falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine trae origine da una denuncia sporta in data 10 ottobre 2018 presso la stazione dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli concernente la violazione ad opera dell'allora responsabile dell'area pubblica del comune di Montecorice e RUP della disciplina prevista in materia di appalti pubblici nell'ambito del procedimento attivato presso lente per la realizzazione di opere pubbliche. Le successive indagini condotte dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania consentivano di evidenziare condotte relative alla perpetrazione di un grave episodio di libertà degli incanti relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di un'altra opera pubblica. Emergeva dunque in particolare che il responsabile dell'area pubblica del comune di Montecorice unitamente ad altri indagati aveva posto in essere condotte volte ad ottenere la turbativa della predetta gara dapprima fidando l'incarico di direttore dei lavori a uno dei destinatari delle misure e successivamente accordandosi tra di loro affinché i lavori venissero aggiudicati ad una ditta unica offerente.